Il modello Lombardo è riconosciuto come un modello di assoluta eccellenza in Italia. Certo ci sono differenze, abbiamo 10 milioni di abitanti, noi abbiamo 1 milione e 600 mila abitanti in un territorio diverso da molti punti di vista, però non dimentichiamoci che erano anche delle zone montane e quindi affrontano problemi simili ai nostri. Però la cosa molto interessante del modello Lombardo è che è un modello molto leggero, molto orizzontale, che non crea una nuova enorme sovrastruttura, ma che lavora con chi già lavora e fa molto coordinamento. Più in generale vorrei dire che questa è una bella occasione per ricordare che le regioni contano, che le tendenze al neocentralismo sono sbagliate. Il modo migliore per dimostrarlo è che le regioni possono collaborare fra loro, guardandosi in faccia e dicendo che problemi hai risolto tu, vediamo come l'hai risolto e se è una buona soluzione perché non devo adottarla anch'io, piuttosto che andare da un ministero romano e provare a trovare soluzioni. Le regioni sono una grandissima ricchezza, io credo che nelle 20 regioni italiane tantissimi problemi siano stati affrontati e risolti positivamente. Spesso non lo sappiamo e questo è un peccato, perché invece la diffusione di buone pratiche è il modo in cui possiamo migliorare rapidamente l'efficienza, senza aspettare che qualche burocrate romano ci detti la linea. E questo è il senso più generale di quello che facciamo oggi e che vorremmo replicare continuamente. Qualche regione ci ha chiesto di poter replicare delle nostre buone pratiche e quindi noi non siamo soltanto importatori di soluzioni altrui, ma ci vogliamo candidare anche come proponenti di soluzioni che possono essere adottate in altre regioni. Questa è una ricchezza dell'Italia, a questo ci tengo e questa ricchezza io credo che possa essere portata a casa anche superando naturalmente divisioni politiche, punti di vista certamente molto diversi tra per esempio quelli miei rispetto a quelli di Roberto Maroni. Ma quando parliamo di cose concrete, l'importante è che ci trovino soluzioni. Se qualcuno la trovate prima di noi, noi siamo felici di adottarle. Se la troviamo prima noi, siamo felici di darle agli altri. Abbiamo firmato oggi, noi dobbiamo correre su questo, quindi saremo molto rapidi, forse siamo anche un po' in ritardo da questo punto di vista e riteniamo di non dover avere ulteriori ritardi. Perché? È difficile parlare di riforma della sanità, è difficile parlare di questa profondissima, importantissima riforma che stiamo facendo, è difficile parlare di rete territoriale se non c'è in piedi un sistema di emergenza e urgenza che renda tutti tranquilli. E qualunque cittadino o Stato deve sapere che nei tempi giusti potrà efficientemente essere portato nel luogo in cui la cura che gli verrà prestata sia la migliore possibile? Un modello di efficienza nei costi contenuti, un modello di efficienza nei servizi resi ai cittadini, che vuol dire intervenire rapidamente, che vuol dire salvare tante vite. Abbiamo creato un modello regionale sull'emergenza e urgenza che funziona ed è un'eccellenza in Italia. Siamo ovviamente interessati a mettere a disposizione di tutte le regioni che lo vorranno il nostro modello. rispettando le esigenze, ma creando questo sistema tra regioni che funziona, che mette in evidenza le buone pratiche e che soprattutto è utile per i cittadini. Tutte le regioni italiane hanno sviluppato in tanti settori delle buone pratiche, che vuol dire servizi più efficienti a costi inferiori. Ecco, noi abbiamo questa possibilità di, come ha detto il Presidente, creare questo catalogo delle buone pratiche, vogliamo farlo. È una buona idea che condivido. Lo porteremo all'attenzione della conferenza delle regioni per dimostrare che le regioni non sono solo dei centri di spesa. Le regioni sono in grado di sviluppare degli ottimi servizi servizi per i cittadini e vogliamo mettere in comune queste buone pratiche che ciascuna regione ha sviluppato. Lombardia per la sanità, ma tutte le regioni in diversi settori. Questa è la proposta che lui ha fatto che io condivido in pieno, 100%. Lo specifico è un servizio di emergenza-urgenza, che vuol dire intervenire quando c'è un bisogno, una persona che deve essere ricoverata immediatamente, deve essere prelevata, magari in un posto scomodo, di notte, come si fa, non si può aspettare il mattino dopo perché se no la persona rischia di morire. E noi abbiamo sviluppato questo servizio con gli elicotteri che vanno anche di notte, che atterrano nei campi sportivi dei comuni e le cui luci accendiamo a noi dalla nostra centrale operativa, con i visori notturni. È un numero unico di emergenza, non 112, 113, 115, 118, un numero unico che permette di accelerare i tempi di intervento e salvare tante vite umane. È un modello che abbiamo sviluppato, che funziona in Lombardia e lo mettiamo a disposizione ovviamente della regione Sardegna, gratuitamente. Sì, oggi è una giornata importante perché viene ratificato di fatto una collaborazione già avviata da tempo, avviata dal novembre 2014, al momento in cui il Consiglio regionale della Sardegna ha votato la legge 23, che riconosceva la nascita della Areus, azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna. Quindi un modello preciso, un modello che aveva come riferimento la regione Lombardia, dove esiste l'unica Areu. Collaborazione costante, con pari dignità con i colleghi della Lombardia. È un modello interessante perché molto efficace. Tra i primi modelli regionali che ha istituito il numero unico dell'emergenza e urgenza, il NU 112, un sistema di elisoccorso molto interessante che è implementato con una collaborazione con i comuni attraverso per esempio la gestione dell'illuminazione dei campi di calcio, una cosa molto semplice. Oppure l'uso di visori notturni offre delle possibilità molto interessanti per la gestione appunto di uno dei pilastri fondamentali della riforma, che è quello di garantire tutti i cittadini sardi nelle patologie a tempo dipendente, l'infarto, l'ictus, un grave trauma in tutte le zone della Sardegna, isole minori comprese. Quindi una giornata importante, collaborazione a costo zero per la regione Sardegna, opportunità quindi di trasferire le loro competenze, le loro esperienze nel nostro sistema.